Una grande gara, una grande gara non semplice, proprio per questo è una grande gara dove siamo riusciti ad essere squadra dall'inizio alla fine, cercando sempre la via della rete, per cui un grande entusiasmo che ci circonda, una bella giornata, una bella giornata che deve solo fare alimentare in noi la voglia di migliorarci, però oggi ci prendiamo questa bella vittoria e l'entusiasmo che veramente è contagiante da parte di tutti. Un gol, un capolavoro perché è riuscito a tirar fuori una traiettoria, un tiro incredibile a Malagia e la cosa bella di Malagia è che non è sorprendente perché ha questi colpi e oggi è tirato fuori veramente uno dei suoi colpi migliori. Sì, non dobbiamo iniziare a volare, si può sognare ma il campionato è lungo, ci saranno tante partite difficili, adesso stiamo in un buon momento quindi bisogna continuare così e poi si vedrà alla fine. Io ci ho provato, è andata benissimo, a parte del gol penso che la cosa più importante sono i tre punti, per come li abbiamo ottenuti, perché sono molto contento per come abbiamo approcciato questa gara, perché il mister aveva detto che non è molto contento soltanto per i punti, però lui voleva pure miglioramenti nel gioco, nella pressione, soprattutto in casa. Penso che oggi abbiamo dimostrato che possiamo anche aggredire alto sin dai primi minuti e questo ha messo soprattutto in difficoltà la spalla. In effetti un paio belli, però questo sicuramente è uno dei più belli, sì. È stata una giornata davvero che non riesco a descrivere, nel senso che non potevo neanche immaginare una gioia del genere, quindi adesso me la godo e poi da martedì inizio a pensare alla prossima partita col Torino, adesso davvero voglio godermela a casa con la mia fidanzata e i miei amici. Il mister me l'aveva detto, mi aveva chiesto un paio di giorni fa come stessa e se fossi disposto a giocare, ovviamente non mi sono tirato indietro. Sapevo che non sarebbe stato semplice perché comunque dopo sei mesi la condizione è difficile da ritrovare, sono dieci giorni che mi alleno con la squadra, però alla fine, a parte gli ultimi minuti che davvero sono arrivato molto stanco, sono riuscito a gestirmi abbastanza. Poi quest'anno sapevo che avrei iniziato almeno perlomeno in quella zona di campo, soprattutto perché sono state due assenze nell'arco di questa sosta, quindi potevo dare una mano lì, lo sapevo e quindi me lo faccio andare bene, poi ho fatto pure gol, quindi va benissimo. In questo momento bisogna solo pensare alla prossima partita, guardare la classifica con la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti e dobbiamo giocarcela con tutti, però allo stesso tempo bisogna andare a Torino con umiltà e ci sarà da soffrire perché il Torino è una squadra forte e noi dobbiamo essere bravi a soffrire e fargli male nei momenti in cui ci concederanno qualcosa.